abbiamo svegliato il can che dorme e mi hanno detto adesso non ce n'è più delle formiche sta peppa non ce n'è più guarda 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 diciamo che non ci sono più perché si sono spostati dall'altra parte ovvero adesso se non mi imbalzo provo ad addentrarmi in mezzo alle dune che se ho ricavato mentre stavo pulendo da 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 surprise guardate ma questo vuol dire tutto il telaio in tante guardate 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 i buchi create le mie mani qui hanno lavorato e lavorano tuttora guardate guardate qui si sono mangiati letteralmente tutta la parte laterale del camper e ma cosa gli diciamo e con questo da bologna è tutto auguri a voi auguri a me e soprattutto auguri al proprietario